Quando cominciai a muovermi mi senti rispone Vabbè ma tu di tanti sport e di fa proprio in bicicletta devi andare Ma che ti frega Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Persone Il podcast che racconta la vita delle persone Nella puntata di oggi ho intervistato Daniele Un ragazzo che è nato con una malformazione E che sin da piccolo si è trovato quindi a dover affrontare la propria vita Con il braccio destro sviluppato solamente fino a poco dopo oltre il gomito Daniele racconterà della sua vita e di come questa problematica Che per molti potrebbe essere un buon motivo per allontanarsi e chiudersi dal mondo esterno È stato invece il suo cavallo di battaglia per mostrare a se stesso e a chiunque Che questo non è un limite a far nulla Certo ci sono delle complicazioni Ma come vedremo soprattutto nella parte finale del suo racconto Se vuoi veramente una cosa non ci sono limiti che tengono Io come sempre vi ricordo e vi faccio vedere Che la maggior parte delle persone che guardano i miei contenuti non sono iscritte al canale Quindi vi chiedo il favore di cliccare il tasto iscriviti qui sotto per supportare la community Inoltre per me è sempre molto importante sapere che cosa ne pensate di miei contenuti Quindi se l'opinione è positiva o negativa mi piacerebbe comunque avere un vostro giudizio qui sotto nei commenti Io come al solito non ho nulla da aggiungere Quindi persone, buona visione Con me c'è Daniele, benvenuto, come stai? Bene, grazie Daniele mi ha contattato su Instagram perché aveva voglia di raccontarmi la sua storia C'è un piccolo particolare che non so se vuoi far notare subito Esatto Sono nato senza la mano destra per una malformazione alla nascita con cui vivo da 31 anni Io la prima cosa che faccio con qualsiasi persona, fai conto che quelle non esistono, non è una chiacchiera tra di noi Ti chiedo di presentarti, così io ho un po' l'idea di chi sei Mi racconti tutto ciò che vuoi riguardo alla tua vita così che ho un po' l'idea di chi ho davanti Va bene, allora io sono Daniele Pepe, nato a Roma, ho 31 anni come dicevo E sono nato con questa malformazione alla mano destra con cui mi sono scontrato e reinventato da 30 anni Credo, avendo visto anche altre due interviste, che la differenza sostanziale tra chi ci nasce e chi subisce purtroppo un'amputazione nel corso della nascita È appunto la difficoltà di passare da una vita conosciuta nel fare le cose in una certa determinata maniera A un'altra invece dove quella possibilità non esiste e quindi per normalità dobbiamo per forza inventarci dei nuovi modi Che sono estremamente personali, nessun modo è simile a un altro Dal semplice allacciarsi le scarpe fino a tagliare una pizza, ad andare in bicicletta, a fare qualsiasi tipo di attività sportiva Non esiste un modo, non c'è nessuno che te lo spiega perché nessuno l'ha mai provato e lo devi trovare tu La natura però su questo punto è fantastica perché in realtà come qualsiasi animale come noi troviamo la via e la troviamo soprattutto in modo inaspettato Io non ricordo ad esempio precisamente il momento in cui ho capito come allacciarmi le scarpe Un giorno mi sono passato e lo ho allacciate E fondamentalmente il metodo è sempre lo stesso Però il modo di utilizzare la propria disabilità in maniera produttiva viene da sé Io utilizzo il braccio destro come se fosse una mano, nel senso che mi manca la presa però ci faccio tutto Non riesco ad immaginare di fare una cosa con la mano destra A differenza di chi subisce un'amputazione che ha la famosa sindrome dell'arto fantasma Io se provo ad immaginare e di stringere una cosa a destra non lo riesco neanche a immaginare Detta così sembra tutto semplice però in realtà non lo è stato Per tanti versi non l'è stato soprattutto da bambino Da bambino è più complicato perché sei inconsciente all'inizio Capisci che c'è qualcosa di diverso Te lo spiegano anche ovviamente Però è più complicato perché ti confronti con i bambini Che sembra una stupidaggine ma i bambini sono impegnativi Forse 30 anni fa lo erano di più 50 anni fa lo erano di più ancora Oggi grazie anche ai social, grazie al tipo di informazione che ricevano Ricevano un'apertura mentale maggiore Dai bambini agli adolescenti per non parlare dei futuri adulti Su questo punto di vista mi sento di dire che stiamo andando nella direzione corretta Facendo un passo indietro ti dico che però per quanto riguarda da piccolo Quello con cui devi imparare a convivere subito Nascendo con una disabilità sono gli sguardi delle persone Che a volte sono innocenti però sono insistenti Ok Non richiesti E tu però fanno parte della tua quotidianità Perché non è una disabilità che si può nascondere più di tanto Il nasconderla comporta un rovescio della medaglia Forse la fai notare ancora di più La fai notare anche di più Tendi ad assumere posture scorrette che poi nel corso della vita ti possono portare a avere diversi problemi Poi dopo arriva l'adolescenza e l'adolescenza per certi versi è migliore o forse è solo diversa Perché gli sguardi esistono comunque però sono più discreti Sono più dettati dalle regole sociali Le persone si pongono in maniera diversa Però è complicato per un ragazzo dai 14 fino ai 16, 17 anni Quindi in piena esplosione ormonale e tutto Capire se nel mio caso specifico se una ragazza ti guarda perché è attratta o è incuriosita E questa cosa è complicata È complicata se sei timido È complicata quindi perché oltre ad essere disabili magari puoi avere tantissime sfaccettature caratteriali Certo hai anche un carattere Esatto questa cosa che va a sommarsi diventa impegnativa La forza di tutto questo probabilmente è il mio carattere Però questo non si è sviluppato da solo Cioè nel senso una parte sarà un 40% mio e restante fatto da la famiglia Le amicizie, le frequentazioni, le esperienze fatte in vita Che come a tutti formano gran parte del carattere Quindi non c'è una formula magica per risolvere questa situazione O per affrontarla nel migliore dei modi Io ho avuto e ho tuttora dei momenti di sconforto come inevitabile Però non voglio neanche che passi il messaggio Ecco diciamo che ho fatto il Vietnam per carità Perché la mia infanzia fortunatamente è stata una infanzia felice Ho avuto la fortuna di crescere, di essere cresciuta dai genitori Che hanno saputo della mia malformazione nel momento della gravidanza Sono informati dai vari ecografi E forse la svolta è stata Stando ai racconti dei miei genitori Quando un ginecologo durante una visita Che aveva a sua volta dei figli con diversi problemi Gli disse una frase che poi i miei ne hanno fatto un mantra Che è stato Se decidete di tenerlo Trattatelo in maniera normale Perché altrimenti ne farete sempre un diverso E se da un lato per certi versi avrei a volte voluto Farmi scudo della mia disabilità per dire Oh io non ci riesco Non si può fare sta cosa E dall'altra invece non ho mai trovato persone che mi dicessero Stai tranquillo Non fa niente No in realtà sono sempre stato spronato nel fare Anche nel fallire Nello sbagliare Nel prendere come dice Roma il muro da solo E questo con il senno del poi Ad oggi credo che sia stata la mia più grande fortuna Perché sono stato amato Però al tempo stesso stimolato Mai giustificato E questo mi ha fatto crescere come ragazzo Come persona E oggi come uomo Se loro non mi hanno permesso di dire Io questo non lo posso fare Poi sono arrivato a un punto dove Tu non lo puoi fare Io non permetto che me lo dica nessuno Beh bellissimo Questo è un bellissimo messaggio E vai 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 Continua Continua E quindi E quindi questo poi si è ripercorso Cioè è riversato Scusa Si è riversato in qualsiasi aspetto Dal fare le cose nella quotidianità Allo sport Che mischiato Ha la fantasia nel trovare delle soluzioni Il primo spunto è averlo da solo E poi trovare delle persone Che siano disposte ad ascoltare E impegnarsi con te nel trovare una soluzione pratica Perché ovviamente non si può arrivare a tutto da soli Quello che mi interessa è Bello Bello tutto Ma immagino che ci sono state anche persone Che al contrario ti abbiano fatto sentire Diverso Che ti abbiamo trattato In un determinato modo Non so se ci sono aneddoti specifici E comunque Come ti sei rapportato in quelle situazioni? Su questo punto di vista direi che Anche qui Ripartirei dicendo che sono stato fortunato E ti spiego perché Su questo punto di vista la disabilità Sembrerà un paradosso È un aiuto Perché se nel corso della vita ci si trova a confrontarsi Indipendentemente dalla propria situazione Con n persone Di diverse astrazioni sociali Diversi approcci e quant'altro E a volte si rischia di interfacciarsi con queste persone Anche a lungo Instaurare rapporti Per poi in realtà vederle per quello che erano Solo dopo un tot di tempo La disabilità invece è uno shock iniziale Ti fa scoprire direttamente la persona che hai di fronte Chi è Da un punto di vista di relazioni umane Questo mi ha permesso di fare una cernita da subito D'inizio Ma in realtà non è che ho dovuto escludere delle persone Semplicemente le persone con cui mi sono avvicinato E mi sono chiuso Sono persone che io ho conosciuto ad anni 3 E conosco ad oggi ad anni 30 Persone concrete Che vanno direttamente al sodo della questione Non si soffermano su un aspetto Completamente Un aspetto estetico Ciò non toglie che io abbia conosciuto E mi sia dovuto confrontare con persone Che in realtà Questo tipo d'aspetto estetico Gli ha posto un freno Gli ha bloccati Ma a livello di amicizia O a livello di Ma a livello di relazioni Ma sai fondamentalmente tutte e due Perché poi se non riesci a superare la prima barriera Diciamo il primo impatto Se non riesci a conoscerti Non può nascere nessuna amicizia E credo che Così come io ho sempre Ma questo probabilmente è un mio limite Non saprei Ho sempre cercato di allontanarmi da persone Che mi accudissero Cioè che erano mie amiche Però al tempo stesso Mi facevano tipo da Assistente Da assistente balia protettiva Ti serve Te lo faccio io Non ti preoccupare Te lo porto io Questa cosa a me Anche se so che viene fatta con innocenza Ma ha sempre posto in enorme difficoltà Io mi trovo a volte a non chiedere aiuto Quando in realtà andrebbe chiesto Ma anche per la qualunque Perché non riesco a tirarlo su con la testa Che magari ho Cento pesi Non riesco più a portarli Le buste della spesa Esatto Solo perché pesano E quindi per una serie di circostanze Diciamo Penso di aver perso Penso di aver allontanato Non coltivato dei rapporti Anche solo per questo motivo Altri credo che semplicemente Non abbiano voluto portare avanti Un rapporto con me Perché magari La loro Il loro preconcetto La loro La loro storia Li portava ad avere un approccio Ok Complicato Stessa cosa potremmo dire Anche per le relazioni sentimentali Io credo che Non tutti Siano disposti Ad accettare Una cosa del genere Perché Non è che la mattina mi svegli E mi passa Quindi Nel senso Nel momento in cui Però anche questo Questo mi ha aiutato Perché in realtà La persona che incontri Con cui magari condividi Una parte della tua vita O tutta la vita Indubbiamente È È attratta da te Anche dall'atestetico Ma Di principio Sarà Sarà sicuramente Qualcos'altro Certo E quindi Su questo sono stato facilitato Perché Ti ripeto Sapevi subito La persona con cui stavi parlando Si era molto più veloce Il risconto Esatto Qual era il doppio fi Se c'era Non c'era un doppio fi Ok Beh questo è interessante E Continuando diciamo Su questa cosa Io immagino E spero Che ci siano magari Altre persone Che Vivono la tua condizione Comunque condizioni simili Che Non la riescono a vivere Nello stesso modo Abbiamo parlato comunque Di base Di una fortuna Nelle persone Che hai vicino Che sicuramente Ti ha dato una mano Nel viverla In un determinato modo Se ci fosse un consiglio Che volessi dare Appunto A queste persone Quale vorrebbe essere? Comunque personale Perché poi non ci sono realtà Assolute Ma assolutamente no È una cosa tua Di non credere Alla frase Mainstream Non sei la tua disabilità Perché Quella frase Sembra un incoraggiamento Ma in realtà Se la scomponiamo È per dirti Non sei la tua disabilità Sei una persona Come tutte le altre E quindi già di per sé Ti spiega Che la parte corretta Sono le persone Come tutte le altre In realtà Quando si arriva A dieci A quindici O comunque A trenta E si è fatta un'esperienza Con una disabilità Che sia Dalla nascita O che sia Successiva Secondo me Bisogna ripartire Dal fatto Io sono Anche La mia disabilità Perché fa parte Del tuo percorso di crescita Fa parte Del tuo carattere E se oggi Hai un'empatia superiore Magari No? Una sensibilità E anche un'inventiva Lo devi A quella disabilità Quindi Sì Ti ha posto in difficoltà Dubbiamente è stata Una sfortuna Nel corso Della tua vita Però Bisogna riconoscergli Da virgolette I meriti Certo E quindi Direi a questo punto Proprio per questo Di non farsi Come dicevo prima Spiegare dagli altri Come fare le cose Quando farle E come farle Perché Perché nessuno Lo può sapere meglio Di te Ok E E Sbagliare la gente Che mi rendo conto Sono complicati Mi sento di essere Disfattista E dire Non passa quel periodo Non è che andando avanti Con l'età La gente non guarderà più La gente è curiosa Si ferma per guardare La qualunque Dall'incidente A A uno che ha i capelli Di un altro colore Sì Come la gente Sta passando qui Giustamente Ci guarda Perché stiamo facendo Una cosa diversa Certo Bisogna fornire Anche delle attenuanti Alle persone che ci guardano Ok Non per forza È uno sguardo cattivo Non per forza È pregiudizievole In realtà A volte è semplicemente Curiosità E a volte Magari dietro Quella curiosità Soprattutto quando Fai qualcosa Di eccezionale Nella tua condizione In realtà dietro Quello sguardo Si nasconde ammirazione Solo che magari Non tutti Si avvicinano Per farti complimenti Certo E Il problema È che si arriva A un punto Dove Si è saturi Di quegli sguardi E quindi Automaticamente Si ha il rigetto Per qualsiasi genere In qualsiasi modo Però non bisogna Cedere alla rabbia Io parlo di questo Perché Arrivo a questo Stato mentale Dopo aver fatto Tutte le fasi Da La adolescenza In cui ti chiudi La rabbia Le fasi in cui Si risponde male Anche solo Per uno sguardo Quindi È tutto normale Nel percorso Di dire Cioè se una persona Si trova nella mia situazione E ad oggi Ancora Tende a dire No Io non lo tollero Non lo voglio Non voglio Quello sguardo Non lo permetto È tutto normale Non c'è un'età In cui a un certo punto Si dice Si arriva Ad accettare Se stessi Si può arrivare Anche a 90 anni Senza accettarsi Il consiglio che do È che in realtà Nel momento in cui Ci si rassegna Per certe versi Si accetta Che si è così La vita cambia In realtà Ho avuto Gran parte della vita In cui mi sono Nascosto Fondamentalmente In cui facevo tutto Però Non volevo comunicare Un messaggio Lo facevo per me E basta Ad oggi Proprio perché Sono arrivato A questo equilibrio Ti direi che Sento una sorta Di dovere morale Nei confronti Delle persone Che hanno La mia stessa condizione O magari Non ce l'hanno Ma semplicemente Non trovano Una sfiducia Verso se stessi Da Per Sì Anche perché Scusami Se intervengo Poi sembra Che magari Solamente Se appunto Non hai un braccio Non hai Assolutamente Parliamo anche Alle persone Che magari Si sente Quei chili in più E quindi non si piace Quella persona Che ha quel micro difetto Che non si piace Cioè È un discorso Che si può fare Perverente Qualsiasi persona Io ti direi da subito Che anche per un discorso Statistico Di conoscere più persone Senza disabilità Che vivono male Che vivono male La propria Esistenza Piuttosto che Persone con disabilità Cioè credo che Ognuno di noi Se si ferma un secondo E pensa Quante storie Di persone con disabilità Conosciamo Di rivalza Di forza Di volontà Almeno una Ne conosciamo Quante persone Ci conosciamo Che nella loro Normalità Soffrono Almeno due Almeno due E quindi Si Quindi mi sono detto Vabbè Rimettiamo Al servizio Questa cosa In fondo Io Nel senso Sono stato fortunato Sembrava Un'assurdità Ma Ad oggi Sono Mi reputo fortunato Perché Potevo nascere Non solo Con una disabilità Ma con un altro Tipo di carattere Potevo Incontrare persone Che anziché Incentivarmi Mi disincentivassero E mi mettessero In un angolo Invece non è successo Io ovunque Sono andato Qualunque sport Ho fatto Qualunque tipo Di esperienza Ho affrontato Sarà per il mio Metodo Propositivo Nel farlo Ma ho sempre Impattato Con persone Che Mi restituissero La stessa Frenesia La stessa voglia Con cui io affrontavo Quelle esperienze Secondo me è anche uno spunto Questo per dire Appunto Se tu sei propositivo Poi Riottieni La stessa cosa Dall'altro lato Assolutamente Sì E poi aggiungo Che siccome io Penso che l'universo In generale Sia Compensazione Se qualcosa Lo perdiamo O dalla nascita O per strada Ci viene restituito In qualche altra Misura Non parlo Di religione Entità E quant'altro Parlo per la mia esperienza E ti dico che Se ho perso una mano L'ho guadagnata Forse in Carattere Bello E di questo Ad oggi sono grato Prima di Entrare nel discorso Che appunto Abbiamo anticipato Inizialmente Io Quello che Ho il piacere di fare Con tutti i miei ospiti È lasciare Lo chiamo Un foglio bianco Quindi la possibilità Di Sottolineare Magari un argomento O magari Risponderti a una domanda Che non ti ho fatto Così che appunto Do anche la possibilità All'intervistato Di dare Un proprio Spunto personale Quando nasci Con questa Con questo genere Di problematia O quantomeno Nasci con Una malformazione Ovviamente Vieni indirizzato Anche dalle sedi ospedaliere I genitori Vengono indirizzati Verso dei percorsi Trent'anni fa Non solo Erano in fase Di sviluppo Ma a volte Si può dire Che quasi Non esistevano E se esistevano Non esistevano In questo paese Ok E quindi Praticamente Il percorso Su cui si veniva Indirizzati Dalle atle Di riferimento Erano queste protesi Praticamente In In silicone Che Per necessità Un bambino Finisce per cambiare Ogni sei 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 Mese Quasi Praticamente Perché col percorso Di crescita Io ho un ricordo Di queste protesi Molto pesanti Molto scomole Perché in realtà La mano È in una posizione Ferma Stabile Nel senso È un pezzo unico Di tutto il braccio In silicone L'ho portata Fino ai sei anni L'ho portata Quindi anche All'asilo L'ho portata A scuola Ho un ricordo Proprio A riguardo A riguardo Della scuola Dove La maestra Me la faceva Togliere A ricreazione Magari Perché Veramente era una roba dura Che se ci sbattevi Era un manganello Ok Immagino E me la faceva Togliere La ricreazione E la andavamo A togliere Fuori dalla classe Quindi proprio A creare Ancora di più Ho questo ricordo Ma al netto di questo Io Ho cristallizzato Questa cosa in mente Dove mi presentai Davanti la cucina A casa C'erano entrambi I miei genitori E gli dissi Ti so dire A sei Che età precisa Ma eravamo intorno Ai sei anni Con parole mie Dissi Se non vi offendete A me questa cosa Mi è più di un piccio Che d'altro E da lì Non l'ho portata più Io non te lo so dire Oggi Se è stato un bene O un male Perché in realtà Ti mentirei Se ti dicessi Che non guardo Alle protesi Che vengono oggi Sul mercato Elettriche Alcune anche fighe E non le guardo Con curiosità E interesse Però Questa è la mia La mia esperienza Mi sono ritrovato Dopo più di 25 anni A riaffrontare Il discorso protesi Per lo sport Perché volevo fare Una determinata cosa E da lì Mi si è aperto Il tuo mondo Un mondo in realtà Non bello Parlo dell'Italia Allora Prima di entrarci Perché adesso Stiamo entrando In quel discorso Ti faccio una domanda Ma voglio solamente Una risposta Sì o no Ok Adesso Quindi ad oggi Se ti dessero La possibilità Di riavere il braccio Lo rivorresti? Penso di sì Ok Ok Penso di sì Perché in realtà Secondo me Sarebbe prendere in giro Te Chi guarda Dire No Sto meglio Senza Ok No Probabilmente Ti di Non saprei che farci Nel senso Mi ci dovrei abituare Mi ci dovrei abituare Perché sei sicuramente Più bravo te A portarmi Nel flusso Ok Ti dicevo che Praticamente Qualche anno fa Mi sono riapprocciato Al mercato protesico Italiano Per capire A che punto Eravamo arrivati Ma non per la quotidianità La mia quotidianità L'ho ben risolta Tanti anni fa Ma perché Tra i vari sport Che ho praticato Ti faccio un cappello Io ho praticato La box Per anni E l'ho fatta Perché ho trovato Un maestro Che si è inventato Una soluzione Imbottendo Il mio guantone destro In maniera tale Che ci fosse Un riempimento Diverso E quindi potessi colpire Col destro Come col sinistro Era un riempimento Di tessuto E proprio a livello Di distanza Come Infatti il problema Era principalmente lì Perché la distanza Era più corta Più limitata E quindi L'ho abbandonato Perché Portare avanti Quella disciplina Mi avrebbe Accentuato Dei disquilibri Scheletrici E quindi Per un discorso di salute L'ho allontanata Ma comunque L'ho provata a fare Ero riuscito a farla Poi feci anche la kick E fu appassionante Come tutto Stessa cosa Per la subacquea Anni dopo Che mi dissero Ma è un po' complicato In realtà Trovai anche lì Un centro Opati Che mi disse Ma secondo me Se il problema Non c'è Non te lo poni tu Perché se ce lo poniamo noi E quindi Cominciai a fare la subacquea E feci tutto un percorso Fino a prendere Cinque specialità All'interno della subacquea Comunque Che è tutto oggi pratico E anche lì A un certo punto Ho approfondito L'ambito Mi sono buttato Anche su Le immersioni Quelle un po' più profonde E quindi Ho avuto bisogno Della muta stagna Per rimanere Sott'acqua Più a lungo Il problema Della muta stagna È che ha dei guanti Che si Che si Che si avvitano No? Si avvitano Sulla muta E questo era un problema Perché in realtà Escono in maniera standard Dalle fabbriche Certo Il mio aspetto propositivo Mi ha portato Per fortuna O perché Non lo so E a incontrare Una persona Con enorme fantasia Che mi ha detto Non ti preoccupare La facciamo da capo La facciamo su misura La facciamo da capo La facciamo Ce la inventiamo E quindi abbiamo sviluppato Una sorta di guanto Fatto sagomato Su me stesso In neoprene Che si andasse appunto A collegare Con la muta stagna E in realtà Penso Da vedere L'unica muta stagna Figo Figo Sempre dovuto Appunto Grazie All'approccio All'approccio Perché poi Indubbiamente Allora io non sono mai entrato Nelle parti Dicendo Io ho questo problema Che mi proponete No in realtà La mia soluzione Io ce l'avevo in testa Però poi serviva Il tecnico Che la mettessi in alto Che è quello Che è quello che vedremo adesso È quello che vedremo adesso È quella che vedremo adesso Esatto Perché Uno degli sport Che più Mi ha Catturato Sin da bambino Come penso tutti È la bicicletta E Nello specifico La mountain bike Sin da piccolo In mountain bike Sono andato Con una mano Solo una mano E Sono caduto Come tutti Più volte Forse qualche volta Più degli altri Però L'importante Come al solito Era risalire Sulla bicicletta E continuare ad andare E Per quanto riguarda però Nell'infanzia E nello specifico Mio padre si inventò Non so se hai presente Che cosa sono i corni Sono quelli che montano I ciclisti Grossomodo Per estendere il manubrio Su cui Si impugna il manubrio In maniera Ah sì Ok Certo Mio padre ne prese uno E me lo mise In maniera Tipo a girare Anziché sopra Verso verso di me E questo in realtà Mi aveva facilitato Perché potevo appoggiare Il braccio Certo Anziché stare Completamente proteso Verso il manubrio Appoggiare il braccio E questa cosa Era già Una svolta Incredibile in realtà Con cui sono andato In bicicletta Per una vita E anzi Per me era il metodo Con cui andavo in bicicletta Poi però Questa voglia Non si è fermata E anzi È ritornata più forte Di prima Diversi anni dopo E ho detto Ma io Mountainbike Ci voglio andare Seriamente In una certa maniera Io buttare giù Per i rubi Praticamente Però Con questa cosa Non lo posso fare Secondo me Se tengo il manubrio Con una mano Ma ammazzo E soprattutto A difesa Da bambino Se sto dicendo male È brutto Stavi a casa Io il giorno dopo Devo andare a lavoro E quindi ho detto Va Vabbè Ci sarà qualcosa Sul mercato Mi compro una protesi Per andare in bicicletta E lì E lì fu Un trauma Perché se nella mia vita Nessuno mi aveva detto Che cosa potevo E non potevo fare Nessuno mi era mai riuscito A dire No guarda Questo lascia perdere Proprio Lì Trovai una barriera Perché non c'era niente Non c'è Nessuno si era inventato Parliamo L'Italia Nessuno si era inventato Niente Per una persona Come me O con altri Problemissimi Per una bicicletta Anzi Quando cominciai a muovermi Mi senti rispone Vabbè ma tu di tanti sport Devi fare Proprio in bicicletta Devi andare Ma che te frega E quindi Dissi Vabbè Non c'è Non c'è problema Io lo so Quello Sapevo quello Che mi serviva Quindi mi sono detto Secondo me Viviamo nel 2023 Anzi A stesso tempo Era 2018 Ho detto Secondo me Qualcosina Si può fare Si può fare Da qualche parte Si può fare E quindi Cominciai a cercare Un po' su internet A guardare anche I progetti esteri Dove Se passi le Alpi È la normalità Praticamente E mi imbattei Un progetto Di un designer New Yorkese Che aveva Riprogettato Un braccio Per una persona Che voleva andare In mountain bike Che gli mancava Questo ragazzo Dalla spalla Ok E quindi Gli aveva progettato Addirittura La flessione del gomito Con un pistone Cioè Ha fatto una roba Spaziale Praticamente Ed era In una lega Di metallo Molto leggera E quindi È fatta Dall'altro Questo genio Che aveva fatto Ha preso i progetti E sempre secondo me Per un debito morale Ha detto Sai che c'è Io li rendo pubblici E li ha caricati Su internet Quindi gratuitamente Chiunque poteva Quindi praticamente Io ho preso Il progetto L'ho spacchettato E mi sono detto A me serve Solo questa parte Perché fortunatamente Fino al gomito Ce l'ho Mi serve solo L'ultima parte E ho detto E mo però Che ci faccio Innanzitutto Di stampa 3D Poco e niente Sapevo che esisteva Però Per lì non ci pensavo Ho detto Servirà un laboratorio Magari di Non so Lavorazione metallica Se dice Chissà che Grande cosa serve Poi dopo Siccome sono una persona Che Si arrovella tantissimo No E Gli piace proprio Trovare delle Soluzioni E Mi diverte E quindi mi sono detto Ma se in realtà La stampassimo Proprio La facessimo stampare Io prima battuta Io la volevo stampare In titanio Ok E quindi ho detto Mi serve un laboratorio Che stampa il titanio E invece Praticamente che feci Cominciai a contattare Queste Società su Roma Che facevano stampa 3D Ora per rispetto Delle società Che ho contattato Non farò i nomi Ma su 10 Che ho contattato Ho ricevuto 9 No 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 Noi non ci assumiamo Il rischio Di fare questa cosa Perché E effettivamente Anche a livello Poi di responsabilità Magari Vero però In realtà Io la posi Del tipo Io ho questa cosa Voi me la stampate Facciamo finta Che è un action figure Ok E io me la tengo a casa E la vedo E me la guardo E in realtà Non ci fu niente da fare Quando stavo mollando Trovai un laboratorio All'altezza di Colli Albani È chiamato Gulp 3D Formato da due ragazzi Fortunato E Gabriele Due ragazzi Fantastici Che secondo me Non solo perché Io l'ho approcciato In maniera propositiva Ma perché Loro Hanno Una testa Per Forse sprecata Per questo paese Non ti saprei dire Nel senso Io comunque Sono entrato là dentro Con questa idea pazza Dicendo Stampiamo una protesi O una cosa di quel genere Non si erano confrontati Magari avevano stampato Oggetti più grandi Di dimensioni Però Noi dovevamo invece Fare un Qualcosa che non solo Fosse funzionale Ma Ingegneristico Cioè a livello ingegneristico Anche sfidante Certo Qualcosa di nuovo Qualcosa di nuovo Esatto Cioè non potevamo copiare Da un'altra parte E quindi in realtà Invece li trovai Fomentati da questa cosa E mi disse Sì facciamolo E Quindi cominciamo a prendere Innanzitutto Tutte le misure possibili Attraverso la fotogrammetria Quindi Attraverso Il buon vecchio metro E quant'altro E facemmo il calco Del mio braccio Ok La prima stampata Anzi le prime stampate Le hanno fatte in PLA Il PLA è un materiale Comune Stampato tramite bobbina Che è quello Plastico Cioè quella è plastica È plastica praticamente E ovviamente Proprio perché plastica Non è resistente Certo E quindi quando feci queste Cominciamo a fare queste stampate Lui ogni volta mi chiamava Mi chiamavano e mi dicevano Vieni giù Che ce n'ho una La proviamo al volo Vediamo com'è E io magari gli dicevo Guarda La preferirei più stretta La preferirei più stretta giù Più larga E quindi praticamente L'abbiamo fatta A misura per me Perché Nel momento in cui Nasci e cresci Con questa condizione Io parlo A meno per me E decidi di non portare Una protesi Il mio braccio È a tutti gli effetti La mia mano E quindi Mi devi lasciare Il tatto Le sensazioni Che ho tutti i giorni E se non posso mettere Direttamente la mano Sul manubrio Ma ci andrà La protesi Il contatto con la protesi Deve essere Preciso E naturale Non volevo guanti Non volevo niente E quindi nulla Ovviamente dopo queste prime stampate Alla fine arriviamo Alla quadra Della situazione E faccio un appunto E dico Io vorrei un sistema Che Mi tenga Mi tenga il braccio Fermo all'interno Della protesi Ma in caso di caduta Mi lasci Uscire dalla protesi Perché La paura principale E che è quella poi Che ho visto Diciamo Il problema Che ho visto maggiore In questo genere Di sviluppi È in realtà Pensare Di bloccare Tutta l'articolazione Sul manubrio Ma se cadi Rimani attaccato Fa parte del gioco Non dipende dalle due mani Fa parte del gioco La prima cosa Che parte Nel senso che Si rompe L'articolazione Da la spalla In poi Quindi ho detto Siccome Non possiamo prevedere Quando cadremo Io devo avere Una reazione Fisiologica Istintiva Alla caduta E questa reazione Fisiologica Alla caduta Deve essere Diciamo Letta Dalla prosi Che mi deve far Scicolare via Però Al tempo stesso Mi serve qualcosa Che me la tenga Fermo dietro E Quindi lui Anzi loro Progettarono Questo archetto Cioè questa rutella Che praticamente Si fissa sopra Una linea dentata E Fa sì che L'archetto Stia in posizione Appoggiato sul tricipite Ma nel momento In cui si dà uno scatto L'archetto cade E libera il braccio Così tu stai Tranquillo Fu una soluzione Geniale In realtà Che a cui In cui io Non c'entro nulla In realtà Devo tutto A loro Su questo punto di vista E Quello che devo a me Ovviamente Sono stati i test I test Finché non abbiamo deciso Di fare la stampata Le volte in cui Alla caffarella Sono caduto Perché magari Il materiale Non era idoneo Per fare Quelle determinate cose In cui si è crepato In più punti Cioè Ci abbiamo messo In realtà Neanche tanto Mi sembra 3-4 mesi Dalla prima progettazione Fino alla stampa finale La stampa finale Fu poi dopo La La Il Diciamo Il risultato maggiore Che è quella che vediamo lì Che vediamo lì Esatto Il risultato maggiore Perché Perché come vedi Chiaramente Quello non è titanio Quella roba lì Pesa 100-300 grammi E da che Io ero ancora convinto Di stamparla in titanio Mi disse Ha letto che Il titanio C'ha un costo maggiore Pesa di più E quant'altro Ma dobbiamo tener conto Che se tu caschi Ti sganci dalla protesi Ma nella caduta Ci caschi addosso Comunque un pezzo di metallo Che ti finisce addosso Ti potresti far male Io ho una soluzione Mi dissero Mi fecero toccare Una penna Che avevamo in studio Stampata In PA12 Il PA12 Non è nient'altro Che filamenti di nylon Intrecciati Ok È un materiale Estremamente leggero Che mantiene Una sua flessibilità E una sua robustezza E se stampato Appunto Si è agglomerato In dimensioni Di un certo Un certo spessore Non si rompe Perché Quella signora lì Sta Viene con me in bicicletta Tre volte a settimana Da anni ormai Abbiamo fatto delle cadute Dove Delle costole Hanno risentito Più che quella E E quindi Ti direi Che è una soluzione Che non solo ha funzionato Ma funziona tuttora E E la cosa illuminante Di tutto questo È che il costo finale Era 350 euro Aggiungerei che comunque Io con questa Ormai partecipo anche a Competizioni E quant'altro Cioè Sono tornato in bicicletta E ci faccio Cioè Che poi Alla fine Averla stampata E Ha portato poi Dopo Ad ottenere il risultato Che volevo E questo E questo mi ha portato Poi a partecipare A delle Anche delle cicloturistiche In giro per l'Italia E o comunque Delle competizioni Più o meno Agonistiche In mezzo Di normodotati E ti ricordo di più Io oggi se lo tolgo Non dico che non ci so più Andare in bicicletta Eh certo Ti sei Ma poco ci manca Eh però Giustamente Riprendendo un po' Quello che Che mi dicevi prima Al contrario Sei stato Ormai Tanto abituato Ad averlo Che non averlo È un po' come La persona normodotata Esatto Che perde Perde l'arto Quindi credo sia anche normale Esatto Quindi in realtà Ad oggi Quando ho cominciato questa cosa Mi ti ho detto Il mio obiettivo Andare in bicicletta In questa maniera Raggiunto E adesso Adesso Bravo Volevo farti proprio quella domanda E adesso il mio obiettivo In realtà È mandare in bicicletta Anche gli altri Cioè Persone Che magari Ad oggi Non hanno trovato La loro soluzione Perché chi ha trovato La propria soluzione Io non sono nessuno Per spiegargli come andare Certo Perché Tempo fa Mi è capitato su Instagram Un ragazzo Che andava in bicicletta Senza una gamba E senza una mano Quindi Io a lui Non gli posso insegnare niente Così come in realtà Probabilmente non posso insegnare Niente a nessuno Però Se c'è qualcuno Che invece Questa situazione La soffre Perché in realtà Ci vorrebbe andare in bicicletta Però Il mercato Siccome Il mercato L'ho detto a noi Numeri E se i numeri Sono bassi La produzione Non parte E quindi magari Un po' scoraggiato Da questa cosa Decide Di accettare La risposta E mi diede qualcuno Del tipo Ma tu proprio in bicicletta Fai un altro sport E lui questo sport L'ha fatto Io mi sento di dire No in bicicletta Ci puoi andare E la soluzione Te la do io Questo è bellissimo Bello bello Non so se vuoi aggiungere altro Se no ti faccio la domanda finale Penso Davide parlato Ok Domanda finale Che io faccio a tutti Sono sicuro che Nella tua vita Comunque Come mi hai raccontato Hai fatto un sacco di cose Hai vissuto Diverse esperienze Che ti hanno insegnato Un qualcosa Questo qualcosa A me piace chiamarlo Morale di vita Ok Quindi Mi piace chiedere Ogni volta All'intervistato Di condividere Questa morale di vita Con le persone Che ci ascoltano La morale La morale Della mia vita È Che se la vita Ti ha messo davanti A delle sfide E sei riuscito A superarle E hai trovato Un modo Per affrontarle Nel migliore Dei modi Non puoi Adesso Nasconderti Dal dovere Di restituire Ai più piccoli La tua forza Di volontà La tua La tua Determinazione Perché se io A oggi Sono riuscito Ad inventarmi Una soluzione Non perché sia Un ingegnere O Un fisico Un illuminato Ma Tramite la forza Di volontà E la voglia Di dire No Io Non ci sto A questa cosa Se io Riesco a Trasmettere Anzi Se chiunque di noi Riesce a trasmettere Questa forza A un altro Non è detto Che chi la riceve Non possa A sua volta Inventare Una soluzione Per qualcun altro Fondamentalmente Di mettere la faccia Nelle cose Che si fanno Proprio perché Nascondersi E tove la soluzione Per se stessi Non è biasimabile Però Rimane un po' Fino a se stesso Invece Rimettere a disposizione Non solo Quella soluzione Ma proprio Se stessi Questo può Produrre Può creare Delle nuove Personalità Può Creare Delle persone E aiutare A sua volta Innescare una macchina Che magari Può portare A qualcosa di grande Grazie mille Grazie a te Grazie a te